ciao a tutti e bentornati sul canale oggi proveremo alecon e la musichina è bellissima ok settaggi audio vsync audio l'abbassiamo solo di un po ma mi piace control and comfort naturalmente non c'è la lingua ok andiamo subito a trovare nuovo gioco yota star game boh ok e quindi dov'verti fatto questa foto facciamolo ok andiamo naturalmente non sto qui a tradurli cioè è inutile tradurlo anche perché vi annoierei quindi fate voi fate in pausa e ve lo leggete tanti la fine fine è un po' semplice partiamo preame della finzione attenzione ma sto camminando che nuovo non cammino io cammina lui vedo un anemone qui qui fa tutto lui eh qua c'è questo questo cos'è non c'è la foto cosa sta succedendo ok e guardiamole vediamo le foto aiutiamo aiutiamo aiutiamolo ok brisbury frappe wings si c'entra angolo Ah, ok No, devo fare le foto io, non l'ho capito Che cosa sto facendo? Ah Ah Eh, sono dieci In base alla foto Lui mi dà un punteggio Tipo adesso c'è questa, no? Che è il grumbo E lui mi dice Ok, lui darà visibilità, angolatura, centrata, grandezza In base a come ho fatto la foto Questa era proprio la prima prima Perché qua non posso fare niente, quindi La grandezza è piccola, devo farla più da vicino Va bene Voglio questa Questa? Ah no, devo premere questo, credo Ok Perfetto, e quindi Eh? Che cosa sono? È una roccia? Ah, lo devo mandare lì? No Non lo sto capendo Aiuto Cosa sta succedendo F1 Ah, è una quest? Ah, lo sto capendo Quale società? Cosa dovrei fare? Oh, l'ho fatta Oh, l'ho fatta Non è lui? No Non è lui Cacchiai sto roba No, dai, 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 dai Lo voglio trovare Nascondino Chiapparella Eccolo È lui No Eh, non ti ho trovato Grandescello Dammi trovare di nuovo 2 1 Ok Sarà qua dentro? No Ecco di qua Beccato Quindi ho vinto Ok Customize color Così Ok Perfetto Invece tu che cosa c'hai? Cosa offri? Prende un mini gioco Tu sblocchi gli animali E poi giochi con gli animali Qua dentro Ah, throw Nei buchi Quali In che senso hai dei buchi? Così? Ah Ma è difficilissimo Eh, quello l'ho beccato Bello però Beccato Due ne ho fatti Ho vinto, no? Grazie Cosa? Ah, di nuovo? È difficilissimo E non lo comprenderò mai Questo Give up Mi dispiace È difficile Poi Cosa abbiamo? Questa cosa? Il magnete Io lancio Ste cose Vabbè Che? Fai Tu Torniamo al reame Ah C'è la big mappa E devo comprare? 1670 Girino 70 Vediamo Madonna mia Non posso zoomare però Ah, quello Quello mi è sfuggito Maledetto Stai attento Per i qua Non so come si zoom Ah, posso lanciare i donuts Per farli uscire Eccoli Ma c'è un segreto lì Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Niente Non c'è 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 niente vieni 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 peccato quindi vediamo il punteggio è un mini gioco sulle foto quante foto fa una miriade o parte di foto no questa cosa qua non ti può schippare il capitano l'ho beccato ok questa cosa del punteggio non ti può schippare veloce no vero oh abbiamo provato un'altra cosa nuova pesce lo squaggering fucu bird hiding orascello ho un sacco di foto ah quindi più ne fai e più punteggio prendi finito il capitano eh io volevo andare subito a parlare con te vieni vieni entri in zoom ok l'ho fatto ok ho zoomato quindi adesso possiamo zoomare anche quando facciamo le foto e ho una naz io voglio parlare con te dimmi capitano yeah voglio entrare nella tua ciurma il segreto del capitano la globa cubi bird bubbles wall talk bubbles traducila ah ok facciamo la storiella hai visto un cane summit il capitano e quindi l'ho già fatto che devo fare ah ah ok ho capito perfetto dobbiamo raccogliere le cose e portargli va bene non è un problema perfetto capitano e a questo punto eh ma questo ancora lo dobbiamo sbloccare secondo me move up eh ma non si muove aspetta ma che tasto destro tasto destro eh no ma il salto è troppo salto ok bene bene signori io credo che possiamo andare da questo vediamo un po' cosa ci fa fare lui ah io ho some secret ok dammi la shell vediamo è un altro questo e lì dentro c'è quell'altro che abbiamo preso sono tutte piccole quest perfetto no 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 see you later perfetto e lì c'è uuuuh questo è gigantopus e qua cosa abbiamo una palla gigante qui c'è un altro animale ancora che l'ho scoperto poi c'è lui ciao pesciorino sarà divertente facciamolo vediamo find the fury non l'ho capito però vabbè ah ok quando passa dobbiamo fotografarlo va bene va bene va bene questo non è niente e poi ci abbiamo lui l'anemone è il più bello di tutti tra l'altro la musica Q W ha ho capito ho capito ho capito ho capito retry questo è quello più bellino mi sa retry è morto no no era bellissimo retry è diventato un gioco di suoni vai no ho sbagliato la tassa bello mi è piaciuta beautiful ce l'ho fatta molto bello eh sì sì è vero è vero infatti abbiamo questa vedi abbiamo un giradischio perfetto signori io direi che per oggi è tutto chiederei questo gameplay qui spero che abbiate capito molto di più da questo gioco potete supportare il canale lasciando un like o un commento e se vi va iscrivetevi e come sempre siete mitici alla prossima bye bye